Addio a Don Giovanni Nicolini, monaco della comunità delle famiglie della visitazione, sacerdote, si è spento a Bologna, marzo avrebbe compiuto 84 anni, a lungo vicario per la carità nell'Arcidiocesi di Bologna, prete degli ultimi, vicino a Giuseppe Dossetti. Per l'ex premier Romano Prodi, legato a Don Nicolini da antica amicizia, mancherà la sua umanità. Funerali domani pomeriggio alle 15.30, a presiedere il rito, sarà il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, nella cattedrale di San Pietro. Amico di TV 2000 più volte ospite, questa la riflessione di Don Nicolini legata al suo apostolato in carcere riguardo all'amore e agli sbagli. E quindi uno che è stato molto amato, lo fa che volentieri, c'è il gusto. A un certo punto può impazzire e aver voglia di dorare la vita per fare di tutto una grande avventura d'amore. Che è stato molto meno amato, è molto più teso, è molto più nervoso, facilmente si irrita, farà una stupidata, la farà troppo grossa, sarà giudicato cattivo, andrà a finire lì dentro. Ma la vera, il vero dramma è questa povertà dell'amore.